Gli appassionati di fuoristrada si ritroveranno per un raduno nazionale nel Vallo di Diano grazie all'iniziativa promossa dall'Associazione Rapaci del Vallo di Diano che domenica prossima, 14 aprile, a partire dalle ore 8 e 30, hanno organizzato la manifestazione a carattere nazionale che vedrà come comune protagonista Sassano. L'interessante manifestazione, che prenderà il via con l'incontro presso il Bar Elliot, dove il club organizzatore offrirà la colazione ai partecipanti, è stata realizzata grazie anche al patrocinio del comune di Sassano, dell'ente Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano e Alburni e dell'Asi, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Fino alle ore 10 del mattino, presso il Bar Elliot a Padula, si terranno le iscrizioni al raduno e saranno poi consegnate ai partecipanti le roadbook, oltre che le colazioni a sacco, composte da panini e acqua. Alle ore 10 la partenza del raduno, che si concluderà alle ore 17. La manifestazione prevede il coinvolgimento di numerosi appassionati di fuoristrada, provenienti da varie regioni, e punta a far conoscere le peculiarità di un territorio particolarmente adatto a questo tipo di sport. Una domenica all'insegna del divertimento e della scoperta del territorio valdianese, attende tutti coloro che vorranno aderire all'iniziativa con il proprio automezzo. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell'Associazione Rapaci del Vallo di Diano, Antonio Montesano, per l'interesse che la manifestazione sta suscitando negli appassionati del settore ed esprime, a nome di tutta l'Associazione, i ringraziamenti per le attività commerciali del territorio che hanno sostenuto l'evento.